Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Parlare di relazione di questi tempi è quasi un controsenso. In un'epoca in cui si pensa soltanto a se stessi, in cui vige, per la maggior parte, ovviamente non è valido per tutti, ma vige l'autoreferenzialità. Eppure, eppure in molti affermiamo che bisogna avere a che fare con gli altri, bisogna aprirsi, bisogna relazionarsi. E allora perché tutto questo? Oggi è proprio questo che andremo a scoprire per comprendere perché abbiamo bisogno di relazionarci con gli altri. Era Martin Buber ad affermare, in principio, è la relazione. Ecco, proprio a sottolineare come l'atto creativo, così come l'origine di tutto, comunque avviene tramite la relazione. E quindi dobbiamo restituire questa centralità all'aspetto dell'incontro, all'aspetto relazionale appunto. E ti dicevo come questo oggi sia un controsenso. Vige l'autoreferenzialità, cosa significa? Che in un periodo in cui la cosa più logica sarebbe quella di collaborare, incontrarsi per andare verso una direzione comune, in realtà si chiudono i propri confini personali. Quindi ci si chiude in se stessi, allontanando gli altri. A volte questo succede addirittura all'interno della stessa famiglia. Mi viene in mente il rapporto tra coniugi, ci si chiude ognuno in se stesso e si curano i propri aspetti della vita stessa. E a volte ci si chiude addirittura nei confronti dei figli. Non si conosce che cos'è che fanno al di là della porta di casa. Cosa fanno a scuola, cosa fanno tra amici, cosa fanno la sera. Ma a volte addirittura cosa fanno all'interno della loro cameretta, chiusi lì magari a giocare a qualche videogioco online o offline. Ecco che allora, sempre Martin Buber, afferma che in realtà ogni vita vera è un incontro. Purchè questo incontro sia autentico. Essere una vita vera, piena quindi, significa svilupparla attraverso il dialogo con gli altri, al contrario quindi della chiusura. Cosa che invece noi assistiamo, come ti dicevo, e quindi non c'è dialogo. Bensì c'è un monologo. Ognuno se la racconta, se la ascolta, se la suona da sé e in questo modo cura semplicemente il proprio orticello. Non si impegna a cambiare le cose, ma anzi l'altro diventa quasi una strumentalizzazione per il proprio beneficio, per il proprio profitto. E non usa a caso questo termine perché a volte è proprio il potere economico che domina questo tipo di relazione o meglio interazione tra una persona e un'altra. Ma quindi se la relazione può fare la differenza, andiamo a capire perché abbiamo bisogno tutti degli altri. Beh, innanzitutto perché la relazione con l'altra persona ci permette di soddisfare un bisogno di accoglienza. Noi stessi quando veniamo al mondo siamo accolti tra le braccia, prima dell'ostetrica o del dottore, ma poi soprattutto siamo accolti nel mondo tra le braccia della nostra mamma. Questo non è una cosa che avviene soltanto nel momento della nascita, ma si ripete nel corso della nostra esistenza. Cerchiamo quell'abbraccio, quell'accoglienza tra le braccia di qualcuno che possa comprendere come stiamo nel momento in cui stiamo affrontando un periodo di dolore, ma che possa anche gioire con noi rispetto ad alcuni successi, ad alcuni traguardi, che in noi provocano quindi quell'emozione di gioia indispensabile per la nostra vita. E allora questo si ricollega al secondo aspetto dell'importanza del relazionarsi, che è quella della condivisione. Come ti dicevo, il dialogo permette di mettere in comune qualcosa tra le persone e allo stesso tempo permette di esprimersi, cioè far fluire dall'interno alcuni aspetti caratterizzanti di se stessi verso l'esterno. Come destinatario quindi si ha l'altra persona. Ecco il senso della condivisione. E in più è condividendo che si può comprendere se abbiamo un terreno da poter battere e coltivare, comune, una strada da poter attraversare insieme, oppure no, semplicemente chiudere quel momento di condivisione per poi andare alla ricerca di altre relazioni e altri incontri. Questo quindi a che cosa porta? Beh, porta a un altro bisogno. Quello di appartenenza. Appartenere a un gruppo, a una comunità di persone, a un'associazione tra pari, tra professionisti, insomma tra persone con una relazione che abbia uno scopo diverso. Appartenere a un gruppo fa sentire meno soli, perché solitamente quello stesso gruppo, se coeso, sposa una causa comune, degli obiettivi comuni, o comunque si basa su fondamentali e valori che tengono unite le persone l'uno con l'altro. Ed è per questo che restituisce anche un certo livello di sicurezza. Non sentendomi da solo so che posso affidarmi a qualcun altro che ha le stesse sensazioni e le stesse esperienze che sto vivendo anch'io. E non solo. Relazionarsi è importante perché ci permette di esplorarci. Ci permette in un certo senso di conoscere noi stessi. Spesso pensiamo che conoscersi abbia a che fare con il rinchiudersi nella propria camera, stare lì a pensare, riflettere sui massimi sistemi, e poi in realtà andare fuori nel mondo e non aver combinato nulla essenzialmente. Questo perché è la relazione, è nell'incontro che noi siamo. Sempre nel pensiero di Martin Buber c'è un io-tu che non è separabile. Nel momento in cui c'è un io deve esserci anche un tu, qualcun altro, che permetta di identificare le due persone in maniera diversa. Quindi io sono alto, moro, con la barba, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tu sei biondo senza la barba, ma anche senza andare troppo nel fisico, io ho determinate caratteristiche perché a un certo punto nella nostra relazione posso esprimerle. E tu puoi rispecchiarti, oppure non rispecchiarti, è un po' a sottrazione se vogliamo, non identificarti e quindi sapere chi sei tu rispetto a me. Ecco che quindi ci permette di esplorare noi stessi. Alcune domande che ci permettono di crescere e di fare questo, ad esempio nel momento in cui ci insultano, oppure fanno qualcosa nei nostri confronti, e noi ce la prendiamo così tanto, proviamo rabbia, potrebbe essere in che modo questo ha a che fare con me? Cioè come appartiene alla mia vita? Come appartiene alla mia esperienza? Sempre per quel principio. Ascolto l'altro, ma allo stesso tempo sto in ascolto di me stesso, perché riconosco che quello che proviene dall'altro può appartenermi oppure no. È un concetto un po' più complicato rispetto a tutto il resto, però se ci mettiamo in ascolto effettivamente riusciamo a cogliere questa differenza. Infine nella relazione soddisfiamo il nostro bisogno di autorealizzazione, perché quando ci relazioniamo, quando condividiamo, ci troviamo tra noi, nel momento in cui riusciamo a progettare una nostra prospettiva, allora quel progetto comune, o che comunque coinvolge gli altri, diventa il nostro progetto di vita. E nel nostro progetto di vita esprimiamo tutto noi stessi, nell'indipendenza e nell'autonomia ci sentiamo realizzati. Realizzati quindi non solo a livello lavorativo, ma anche a livello affettivo, relazionale, familiare e così via. Quindi la relazione permette di esprimere dei desideri e dei bisogni, ma allo stesso tempo anche di arrivare alla loro realizzazione e soddisfazione. A questo punto è utile fare qualche appunto. Il primo appunto che mi viene in mente è che relazione, bisogno degli altri, non è da estremizzare e da assolutizzare, il che significa che aver bisogno degli altri non significa dipendere dalle altre persone. E questo perché aver bisogno degli altri significa stare nella relazione in condivisione, ma dipendere significa un po' annullarsi e lasciare che sia l'altro a fare qualcosa al posto mio. Quindi non c'è una presa di responsabilità e non c'è neanche una presa di posizione. Ecco perché a volte si dice, beh, sei tutta la mia vita, non so cosa farei se io non avessi te al fianco. Questo è un sintomo, a volte viene detto così, giusto per dire, ma a volte invece è un segnale rispetto a una incapacità di non dipendere da una persona ben specifica e quindi di non assumersi le proprie responsabilità rispetto all'autorealizzazione stessa e all'indipendenza. Il secondo appunto che mi viene da fare quindi riguarda gli spazi. Anzi, cioè avere bisogno degli altri non significa stare continuamente in relazione con gli altri e contattare gli altri, vedersi, stare sempre nei rapporti senza ritagliarsi degli spazi per sé. Questo no, assolutamente. Anzi, ci sono persone che hanno più bisogno di stare in silenzio, ci sono persone che invece ne hanno di meno, ma comunque ognuno di noi deve poter sviluppare quello spazio individuale dove raccogliersi, ritirarsi per elaborare determinati aspetti sia di sé che del mondo che ci circonda. Stare in silenzio con se stessi è comunque una forma di relazione, è comunque una forma di cura dell'incontro che si ha con se stessi, appunto, con la propria persona. E poi ultimo appunto, non basta semplicemente stare in relazione con gli altri. Comunque bisogna avere anche consapevolezza continuamente, perché è un lavoro costante che non finisce mai, del proprio modo di stare insieme agli altri. Se quindi si è una persona che si accusano gli altri perché ce l'hanno tutti con me, prendere consapevolezza anche del fatto che molto probabilmente siamo noi stessi che allontaniamo le altre persone, mettendo in atto determinati atteggiamenti, magari facendo sempre muro, magari contrastando continuamente l'opinione degli altri, quello che potrebbe essere buono, perché per partito preso, no, devo rifiutarlo. Ecco, qui sta un punto, il fatto che comunque è rischioso stare nella relazione con gli altri. Instalare un dialogo, purché sia aperto, rende più o meno esposti. E questo espone anche ad un grande rischio. Il fatto che comunque nella relazione si possa anche venire rifiutati, rigettati e respinti dall'altro per particolari motivi, ma comunque c'è questo rischio anche da prendere in considerazione. Quindi come lo elaboriamo, come ne prendiamo consapevolezza, ed ecco qui tutto il lavoro rispetto alla conoscenza di sé e anche alla conoscenza delle proprie modalità di stare con l'altro. Se questa riflessione ti è stata utile e ti permette di scatenare una piccola scintilla nel tuo percorso di crescita personale, ma soprattutto relazionale, ti invito a condividerla con le altre persone che magari possano trarre beneficio. E se vuoi ricevere ogni mattina, da lunedì al venerdì, un ulteriore stimolo di riflessione che condivido soltanto su WhatsApp ad un insieme di persone e non su YouTube tramite podcast, ti invito a mandarmi un messaggio per unirti al nostro Training alla Gioia scrivendomi su WhatsApp la parola CONSIGLIO al 329-3211-971 oppure vai su sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Un abbraccio, alla prossima!